Primo trofeo Città di Campli, parliamo del tracciato, delle difficoltà, di come si svilupperà la corsa. Sì, la corsa sarà molto dura, sono 10 giri per 5,5 km che è nel centro di Campli, poi 4 giri che faranno per Campo Valano, per Campli 13,5 km e ci sarà un muro di coccioli, lo chiamano, al 15%, quindi 4 volte sarà una corsa per scalatori. 15% è una bella salita? Sì, è una bella salita, ma sicuramente saranno battaglie ragazzi. E riservata a quali categorie? Categoria Juniores, saranno 25 squadre, da Emilia alla Calabria. Questa è una prima esperienza che però non resterà unica? Penso di no, perché il comune di Campli ci ha interpellato, sono molti entusiasmi, il sindaco, Adriani, Pietro, Guerrieri, Simone, ho visto che c'è grande entusiasmo, perché questa è una prima edizione che da come penso che sarà un'edizione che poi sarà un seguito. Come mai la scelta di Campli da parte degli amici del pedale di Sant'Egidio? Beh, diciamo, noi siamo di Sant'Egidio, è stata anche Civitella, abbiamo fatto queste quattro corse, siamo appassionati, io correvo in bicicletta, mio figlio correva in bicicletta, quindi c'è una grande passione, ci hanno interpellato e noi abbiamo risposto con entusiasmo.